Upsa tutti, miei cari upsine e upsine, come state? Come, come, come state? Spero veramente bene. Sì, spero proprio stiate molto bene. Oggi sono qui per fare un video che potrebbe essere classificato come uno dei miei preferiti. Quindi uno che io, da spettatore di video ASMR, guarderei. Quindi farò del whispering, del tapping, fari mouth sound e un paio di trigger, ecco. Perciò indossa subito un paio di cuffie o auricolari, come sto facendo. Stenditi sul tuo letto e prova a chiudere gli occhi. Va bene, perfetto. Io inizio. Vorrei iniziare con del tapping su questo libro qua. Questo è il libro che sto attualmente leggendo. Ci sto impiegando molto tempo perché ho sempre altro da fare e quindi non riesco a leggere. Ma mi manca solo questo pezzo qua da leggere. Quindi è quasi finito. Io inizio. Io inizio. E... Io inizio. E... 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 Grazie a tutti. Ma, parlando di libri, sono qua per dirvi una cosa importante, perciò ascoltate bene. Una mia cara amica tempo fa ha scritto un libro e una casa editrice glielo ha preso e da poco è uscito questo libro in pre-order. L'obiettivo è raggiungere 200 pre-ordini. E, visto che io voglio supportare questo progetto di questa mia cara amica, vi lascerò qua sotto, nell'info box, nella descrizione, il link per poter andare su questo sito e sia leggere un'anteprima della trama e dei primi due capitoli. E così poi, se vorrete acquistare questo libro, quindi se avete un attimo di tempo, date un'occhiata. So, va bene. Grazie. Ok. Pustina del tempo. Pustina del tempo. Pustina del tempo. Pustina del tempo. oi adesso voglio procedere con un po' di mouth sound che io adoro e voi adorate un po' di mouth sound che io adoro sono molto faticosi da fare ok non voglio farli durare troppo anche perchè ho altro da fare adesso altro tapping ma sul mio telefono perchè io vi giuro nella quotidianità faccio un sacco di tapping sul telefono quando non ho nulla da fare ok 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 io adoro adoro questo trigger adesso ritorniamo al tapping su questo porta occhiali ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E infine ho qua per voi un altro trigger che a me piace tantissimo. Ovvero i fazzoletti a me rilassano un sacco. Grazie a tutti. 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 Se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio qua il mio video precedente, qua una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video e tutti i shorts che vorrai. Grazie a tutti. Io ti mando un bacio. E' stato veramente bello stare qua con voi stasera. Buonanotte. 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 Buonanotte.